L'Antartide nasce da una precedente spedizione, ero con Luca Schiera del deserto della Giordania, il quale cominciò a parlarmi di Luigina Iroldi, un alpinista di Lecco che già negli anni 50 aveva esplorato l'Antartide. Dall'idea al viaggio è passato veramente pochissimo tempo e non ho fatto altro che coinvolgere altri due miei amici, uno è Marcello Sanguinetti, che si è occupato poi della parte scientifica, e Marrico Dell'Agnola, della parte video e fotografica. Io non sono mai stato in barca, per cui questa per me è stata un'esperienza assolutamente nuova. Attraversare il canale di Drake è stata veramente una cosa incredibile, ci siamo trovati in mezzo a onde altissime e per giorni abbiamo navigato in questo mare, uno dei più complicati del mondo. Finalmente arriviamo in vista della penisola antartica, l'ambiente tutto intorno a noi è gelido, ma tutto sommato fa meno freddo di quanto ci aspettavamo. Le condizioni meteorologiche non sono le migliori e le nuvole basse sulla costa ci accompagnano durante la navigazione attraverso lo stretto di Gerlage. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.